9 punti ancora disponibili, playoff obiettivo non più a vista per la Reggio Ravagnese che rende visita allo stadio Monreale Proto ad un cittanova che occupa la quarta piazza alle spalle di Soriano, Vigor, Lamezia e Sambiase. Reggini in campo con curra in porta, la Villa Falzia o Maesano, Foti, Buda, Pannuti, Verducci, Ogbebor, Puntoriere e Romano, arbitra Katia, Cilento della sezione di Cosenza, coadiuvata da Antonio Francesco Borrelli e Vladimir Giovanni Renda. Completo giallo-rosso a strisce per i padroni di casa, Magliazzurra con i certi, Amaranto invece per gli ospiti. Osservato un minuto di silenzio al Monreale Proto in ricordo delle vittime e la tragedia di Suviana, quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Antonio Galluccio possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida. Primo sussulto di marca locale con il corner da destra sul quale svetta un calciatore giallo-rosso sul secondo palo in cornata alta. Sul giro palla affannoso della Reggio Ravagnese, Mossolini sradica la sfera dalla disponibilità avversaria, prova il tentativo dal limite sul quale si allunga cura sul prosieguo dell'azione Zaric, trova prima Foti e poi getta alle ortiche. Una ghiotta chance si resta dunque sullo 0-0 al Monreale Proto, inizio arrembante dei locali, Mossolini servito da sinistra colpisce il legno di testa praticamente da 0 metri. Risposta a Maranto con l'apertura elegante di puntoriere per Romano che rientra da sinistra e calcia in bocca però a Palumbo. Padroni di casa nuovamente vicini al vantaggio alla ricerca del gol olimpico direttamente da calcio d'angolo, smanaccia sopra la traversa Currà. Direttamente dal rinvio di Palumbo scarcella, anticipa il diretto marcatore, sguscia via tra le maglie della Reggio Ravagnese a tu per tu, con Currà si lascia ipnotizzare al giovane portiere reggino. Reggio Ravagnese è costretta a proseguire in inferiorità numerica su segnalazione del primo assistente che richiama la signora Cilento per un possibile colpo proibito a palla lontana. Finisce anzitempo negli spogliatoi, allora Falzia dal corner che ne segue, solita palla sul secondo palo e secondo legno di giornata per i locali. Ospiti che restano comunque in partita, stop aristocratico di Romano sul lancio dalle retrovie e mancino incrociato largo di un paio di metri. Gara pimpante al Monreale, Proto Zaric manda intelligentemente in fascia scarcella, sfera a rimorchio per Mossolini che strozza il destro graziando Currà. Duplici fischio è la signora Katia Cilento e squadre che guadagnano gli spogliatoi così sul parziale ad occhiali. Passiamo con le nostre immagini allora a quanto è accaduto nella ripresa. Ospiti che ci provano per primi ancora con Romano tra i più attivi dei suoi. A gira l'avversario prima di concludere largo però con il destro. Giallorossi che tornano a rendersi pericolosi dall'altro lato con il mancino affilato di Zaric largo di un metro circa alla destra della porta difesa da Currà. Intorno all'ora di gioco però il muro eretto dalla reggio ravagnese crolla con Condemi che pennella il crosso per Mossolini. Stop e destro rabbioso sotto la traversa per il vantaggio cittanovese. Ancora Currà chiamato agli straordinari sul mancino potente dal limite del solito Zaric. Sul finale di gara e Salvi Costa subentrato dalla panchina a cercare gioia personale. Currà ci mette una pezza sulla ribattuta. Infusino calcia sul fondo. Nel finale troverà la gloria personale Salvi Costa con Demi lanciato dalle retrovie a parecchia dopo una sgroppata sull'automancino. Il 99 locale deve solo spingere in rete due assist per il numero 10. Uno al 9 e l'altro al 99. Termina così la sfida del Monreale Frotto. Cittanova si impone sul reggio ravagnese per due reti a zero. Un saluto allora amici appassionati appuntamento come al solito alla prossima.